Reputa del decimo scaglione 93, in questo momento, denso di significato, rivolgiamo un pensiero riverente a tutti coloro che per tener fede al giuramento prestato sono caduti nell'adempimento del proprio dovere. Alla memoria di uno di essi è dedicato il vostro contingente, la medaglia d'oro al valore militare spara cadutista Cesaroni Giacomo, del quale sarà ora letta la motivazione. Battaglione, attenti! Il percorso dell'attacco, perché per il grottante l'attacco, si portava a terra con i grossi nostri uomini, nuovamente per il comando del battaglione. Al ritorno, il ritmo della volta, attraversando la zona scoperta, un uomo battuta, un uomo chirurgico all'attacco di genna e scoperta della fronte, a polvo sulla Francia di centocitui uomini, si portava al comando una copiaria, e consegnava l'ultimo cellulare. Sentendo grossi battaglioni, l'approccio compettante, lo sorreggeva, si dichiarava felice di un bledito, millore strano di mortina. Vatine che potrebbero bisognava, si vincere 빨grino Battaglione, ripasso! Recute del decimo scaglione 1993, il ricordo di questo valoroso vi sia di esempio e di guida. Vi invito ora a prestare giuramento del quale mi accingo a leggere la formula. Battaglione, attenti! Battaglione, presentato! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e alle sue leggi, di adempiere con disciplina e dolore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Recute del decimo scaglione, terzo contingente 1993, l'ho giurato voi? L'ho giurato! L'ho giurato! L'ho giurato! Battaglione, presentato! L'ho giurato! L'ho giurato! L'ho giurato! L'ho giurato! L'ho giurato! Battaglione, pie... Battaglione, riposso! Battaglione, riposso! Battaglione, riposso! Battaglione, riposso! Battaglione, riposso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenti. Battaglione, presentate... Onori alla bandiera di combattimento dell'undicesimo battaglione Panteria Casale. Grazie a tutti. Battaglione, presentate... Battaglione, presentate... Onori al comandante, la trentunesima brigata corazzata centale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Battaglione, presentate... Battaglione, presentate... Grazie a tutti i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.